A volte qualcuno mi chiede, perché dedico così tanto tempo a questo lavoro? E in effetti non è una domanda così banale. Da bambino sognavo di fare il regista. Sognavo una telecamera e un grande film. Poi mi sono accorto che il desiderio più grande che avevo dentro di me era quello di condividere una passione con altri amici. Insieme a loro volevo chiudere gli occhi e sognare. Ho scoperto che per essere felici non bastava una telecamera. Serviva molto di più. Ho capito che un pallone, da solo, non ci potrebbe mai far divertire. Perché un pallone, così come un qualunque altro gioco, ha bisogno di tante mani per essere usato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco perché oggi dedico così tanto tempo a questo lavoro. Forse perché ragazzi il cinema non è soltanto un lavoro. È molto di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.